Un utente di Gimp Italia ha la necessità di eseguire un effetto sfocatura movimento e in particolare ha la necessità di eseguire un tutorial fatto per Photoshop dove viene eseguita una sfocatura radiale. In particolare l'effetto che si cerca di ottenere è questo, così come è descritto nel manuale di Gimp. Adesso per eseguirlo ho scaricato proprio l'immagine sorgente del tutorial su Photoshop e l'effetto che si vuole ottenere è praticamente questo qua. Ok, l'effetto è questo, noi andiamo sull'immagine di default dove non è stata eseguita la sfocatura. Ok, noi cerchiamo l'immagine del soggetto dove è eseguire la sfocatura è questa e si vuole ottenere praticamente un effetto sull'anca nullo è maggiore ai piedi. Allora, come fare? Allora, praticamente iniziamo innanzitutto a selezionare dove eseguire la nostra sfocatura. Ok, facciamo una sfumatura alla selezione effettuata di 15 pixel, così come d'altronde è descritto nel tutorial, andiamo ok e adesso andiamo a eseguire il nostro filtro movimento, sfocatura, movimento, andiamo radiale, un attimo che allargo, ok, il filtro, ma come potete vedere praticamente il centro sfocatura dato di default è praticamente il centro dell'immagine. Ok, noi vogliamo che praticamente qui sia quasi nullo e in fondo sia il massimo della sfocatura. Ok, allora, riposizioniamoci sul nostro filtro. Ecco qua. Praticamente per avere un effetto maggiore ai piedi e minore all'anca andiamo a misurare la nostra immagine dando il centro qui, praticamente sull'anca. Per farlo, per dare i nostri parametri nell'asse delle X e nell'asse delle Y andiamo a utilizzare lo strumento misurino, tenendo presente che le coordinate 0, 0 sono in alto sulla sinistra, ovvero qui. Per cui andiamo a calcolarci di qua a qua la nostra asse delle Y ed è, lo leggiamo sotto, praticamente qui sotto, è 594 e impostiamo 594. poi andiamo a misurare l'asse delle X praticamente è 387 387 ok diamo un valore all'angolo di 8 vediamo che cosa otteniamo il filtro è molto lento perché l'immagine è molto grossa diamo ok il filtro sta in esecuzione ed ecco abbiamo ottenuto il nostro effetto con lo strumento sfocatura allora questo è il nostro livello andiamo a confrontarlo con quello eseguito con Photoshop diciamo che abbiamo ottenuto un buon effetto anche con il nostro strumento preferito di grafica Gimp con questo è tutto un saluto da GoGo ciao grazie a tutti 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 grazie a tutti